Dallo spot nazionale alla realtà dell'ospedale Rizza, una tende permette di poter riavere il contatto umano con gli anziani della RSA di Siracusa all'ospedale Rizza. In questo periodo di pandemia da Covid-19 la categoria più a rischio, si sa, sono gli anziani, infatti i più protetti anche dai familiari stessi che evitano incontri per scongiurare possibili contagi. Proteggersi dal virus ma anche dalla solitudine, un abbraccio, tenersi le mani è sempre stato il miglior antidoto naturale contro ogni sconforto. Una tenda di plastica trasparente installata nel corridoio della residenza sanitaria per anziani dà la possibilità di tornare, anche se protetti, al naturale bisogno dell'essere umano, del calore di un contatto almeno fra i familiari. Scatti commoventi che dicono tanto rispetto al periodo di emergenza che stiamo vivendo, ma da oggi con questo metodo, nipoti, figli e parenti potranno riabbracciare i propri familiari. Intanto, secondo i dati di ieri, gli attuali positivi a Siracusa sono 244, i nuovi positivi di ieri 52. Riguardo ai numeri dei contagi in Sicilia, secondo il bollettino del Ministero della Salute di ieri alle 18, dai 10.026 tamponi molecolari processati e i 12.229 quelli rapidi sono emersi 984 nuovi positivi al Covid-19 in tutta la regione. In terapia intensiva sono 202 i pazienti, due in meno rispetto a martedì, 37 invece i decessi e 1.536 le persone guarite dal virus. Nello specifico i dati nelle province siciliane, 391 a Palermo, 165 a Catania, 145 a Trapani, 126 a Messina, 55 ad Agrigento, 52 a Siracusa, 34 a Caltanissetta, 9 a Enna e 7 a Ragusa. Le dosi di vaccino somministrate in Sicilia sono state 176.056. Questi sono i dati che si riferiscono al bollettino di ieri alle 18.00.